Ciao a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare vi do il benvenuto anche oggi in questo nuovo video come vedete siamo sulla bellissima passeggiata di Campione d'Italia vicina a tutti i ristoranti, i bar, le zone più caratteristiche di questo bellissimo comune, di questo enclave e quindi oggi vi presenterò una casa molto grande di quattro piani, una casa che può essere anche definita plurifamiliare una casa di nucleo, quindi nel nucleo storico di questo comune appunto di Campione d'Italia ristrutturata nel 2018 adesso vi presenterò tutti gli spazi, abbiamo anche due posteggi di proprietà esterni quindi rimanete con me che dopo aver visto qualche immagine di questa fantastica location vi accompagno all'interno della proprietà per visitarne gli interni e ci vediamo subito dopo la sigla Bene, dopo aver fatto questa bellissima passeggiata sul Lungolago come avete visto siamo nelle vicinanze della parte più bella di Campione d'Italia quindi vicino ai ristoranti a Lungolago appunto e quindi in una posizione davvero stupenda accediamo alla proprietà quindi cominciamo la visita degli spazi interni siamo al piano terra quindi abbiamo questo bel disimpegno che ci consente di accedere ai locali che troviamo appunto in questo piano inferiore che sono rispettivamente una camera da letto che è subito all'ingresso sulla sinistra poi abbiamo una seconda camera che attualmente è utilizzata come studio quindi come studio musica ma eventualmente può essere convertita in una bellissima e spaziosa camera anche per un ragazzo poi abbiamo l'accesso su questo lato a una grande area pranzo dove si trova anche un bagno con doccia quindi la casa è stata interamente ristrutturata nel 2018 si presenta veramente molto bene è stata anche ristrutturata mantenendo le caratteristiche di questo tipo di immobili appunto dei centri storici poi proseguendo da questa sala da pranzo abbiamo questi ulteriori locali accessori dove è stata installata questa piccola cucina e poi accediamo alla parte esterna quindi questa bella terrazza che può essere utilizzata come giardino quindi una terrazza spaziosa dalla quale si può accedere alla parte relativa a questo grande locale hobby che può essere eventualmente convertito in una palestra utilizzato come sala multiuso eventualmente dove abbiamo anche degli armadi e ulteriori locali ripostiglio così come in tutto il piano quindi in caso di visita ovviamente in questo momento non riusciamo a mostrarvi tutti gli spazi poiché sono veramente tanti abbiamo tanti ripostigli abbiamo anche un locale lavanderia proprio su questo piano in caso di visita poi potremo mostrarvi tutto nel dettaglio adesso seguitemi che vi accompagno al piano superiore abbiamo un totale di si può dire quattro livelli calcolando anche il piano terra quindi piano terra un primo un secondo piano e poi la mansarda con una bellissima vista che però vi lascio alla fine del video adesso seguitemi che andiamo al primo piano per visitare un'altra area di questa bellissima proprietà dove abbiamo ulteriori spazi seguitemi bene quindi tramite la scala accediamo al primo piano quindi il piano immediatamente superiore a dove eravamo poco fa abbiamo un disimpegno quindi che collega poi i vari locali abbiamo qui sulla sinistra una bella camera da letto che attualmente è utilizzata come salottino può essere messo un divano letto eventualmente è realizzata una camera anche per gli ospiti poi abbiamo su questo lato sempre tramite il disimpegno di quest'area l'accesso al salottino quindi abbiamo un salottino molto elegante molto accogliente dove abbiamo lo spazio per dei mobili un bel tavolo da pranzo ovviamente sono tutti locali con delle belle aperture delle belle finestre poi qui di fronte a me si trova una cucina quindi una cucina abitabile a tutti gli effetti con l'accesso anche a un piccolo balconcino verandato quindi chiuso mentre sulla mia destra abbiamo un corridoio con degli armadi a muro e l'accesso a quello che è il bagno spazioso che serve questo piano un bel bagno con doccia finestrato quindi abbiamo praticamente su questo livello si può dire un grande due e mezzo locali con salottino, camera e cucina abitabile più questo bel bagno al piano sopra abbiamo la stessa configurazione quindi vi mostro qualche immagine abbiamo appunto sempre la configurazione con il salottino, la camera, la cucina e quindi anche il bagno ovviamente è leggermente diverso come struttura poiché al posto del salottino abbiamo una cabina armadi della quale vi mostro qualche immagine poi come dicevo è una casa molto grande di circa 300 metri quadrati e quindi in caso di visita vi porteremo a approfondire tutti gli spazi abbiamo piano terra, il primo piano dove ci troviamo il piano superiore che appunto risulta essere lo stesso del primo piano con una piccola differenza per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi ma la configurazione è la medesima sempre con un bagno e adesso seguitemi che vi accompagno a visitare l'ultimo piano dove abbiamo questa bella mansarda e quindi completare anche la visita della proprietà venite con me bene siamo arrivati quindi all'ultimo piano della proprietà dove abbiamo questa bella mansarda subito all'ingresso abbiamo un bel bagno che serve appunto quest'ultimo piano abbiamo un cucinino che è stato realizzato in questo vano qui alla mia sinistra e per completare abbiamo quest'area molto bella rilassante dove abbiamo un salottino eventualmente un'area relax con una meravigliosa vista lago una pace assoluta come vedete siamo in una posizione decisamente molto caratteristica a due passi dal lungo lago e da tutti i ristoranti i bar e quindi dalla zona si può dire più bella di Campione d'Italia vicini anche al casino ricapitolando quindi abbiamo visto una casa sviluppata su quattro livelli siamo nel nucleo storico di Campione d'Italia piano terra come avete visto abbiamo questi locali con lo spazio per eventualmente realizzare delle camere per gli ospiti una grande sala da pranzo con bagno con doccia abbiamo il cucinino abbiamo il locale all'esterno dove c'è anche questa grande terrazza al piano superiore abbiamo un due e mezzo locali si può dire quindi al primo piano con una camera da letto un salottino una bella cucina abitabile e un grande bagno con doccia al piano secondo quindi immediatamente superiore abbiamo praticamente la stessa configurazione con una differenza leggera nell'utilizzo degli spazi dove abbiamo al posto del salottino una grande cabina armadio mentre al piano dove ci troviamo che è l'ultimo appunto questa bella mansarda con anche lo spazio appunto per armadi abbiamo nicchie e ripostigli praticamente in tutta la casa per ottimizzare lo spazio e sfruttare al meglio ogni metro quadro di questa grande proprietà perché parliamo di una proprietà di circa 300 metri quadrati abbiamo anche in dotazione due posti auto di proprietà esterni questo è un fattore molto importante di comodità poiché siamo nel nucleo e quindi solitamente nel nucleo non ci sono i posteggi invece questa casa gode di due posteggi esterni è una casa che è stata ristrutturata interamente nel 2018 si presenta veramente come nuova abbiamo tanti spazi è l'ideale per una famiglia molto numerosa o per coloro che desiderano anche eventualmente realizzare un airbnb perché abbiamo tantissimi locali tantissimi spazi nella descrizione visto che la proprietà è davvero grande vi lascio tutti i dettagli poiché ovviamente mostrarvi tutto in un solo video non è semplice quindi vi lascio in descrizione tutti i dettagli e quindi un descrittivo completo e anche il link sempre qui sotto nella descrizione del video per accedere alla scheda dell'oggetto direttamente all'interno del nostro sito l'immobile vi faccio presente anche che è riscaldato tramite un impianto a gasolio quindi tenuto molto bene così come tutta la proprietà anche i serramenti sono stati rifatti quindi veramente una casa tenuta benissimo come dicevo in descrizione trovate tutti i dettagli nel frattempo se foste interessati a maggiori informazioni o eventualmente a organizzare una visita non esitate a contattarci tramite il numero di telefono che vedete qui sotto o tramite il sito metropolisimmobiliare.com e vi metteremo in contatto con il consulente che si occupa di questa proprietà per rispondere ad ogni vostra domanda ed eventualmente anche per organizzare una visita io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i numerosi immobili che ci vengono affidati per quanto riguarda la vendita e ovviamente vi ricordo che se avete un immobile da vendere o conoscete qualcuno che ha questa esigenza non esitate a contattarci poiché abbiamo un team specializzato pronto ad accogliere ogni vostra esigenza e ad aiutarvi nella vendita del vostro immobile aiutandovi in ogni fase della compravendita fino a rogito nel minor tempo possibile alle migliori condizioni possibili e soprattutto senza sorprese io quindi vi ringrazio per essere stati con me anche oggi nella visita di questa grande casa a campione d'italia nel nucleo storico vicino a tutti i principali servizi e attrazioni di campione vi auguro come sempre una meravigliosa giornata e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao